La squadra in campo, la dirigenza e i legali nelle aule dei tribunali sportivi e non solo. La stagione del Catania va avanti su due binari assolutamente paralleli. Per la squadra di Sottil, oggi seduta di rifinitura in vista dell'esordio stagionale in campionato davanti alla pubblico amico. Al massimino arriva la Vibonese. I calabresi puntano alla salvezza, ma gli stimoli agli uomini di Nevi-Orlandi domani pomeriggio davanti ad una big, siamo certi, non mancheranno. Ecco perché il Catania non deve abbassare la guardia. È vero che i calabresi viaggiano alla media di un punto a partita, quattro quelli messi insieme in altrettante gare, ma nell'ultima di campionato hanno abbattuto il Matera. Dalla parte del Catania, oltre alla innegabile superiorità tecnica all'esperienza di molti degli uomini in rosa, anche la rabbia accumulata durante tutta l'estate per il tira e molla, legato alla speranza di un ripescaggio che alla fine non è arrivato e per il quale i legali del club rosso-azzurro continuano a combattere per ottenere almeno il giusto risarcimento economico, alla luce anche del decreto sulla sicurezza firmato ieri dal capo dello Stato, all'interno del quale il governo, dopo il grande pasticcio di questa estate, è inserito un comma che affida alla giustizia amministrativa, anche per i ricorsi già pendenti, dunque anche quello che riguarda il Catania, la competenza esclusiva sulle esclusioni e sui ripescaggio nei vari campionati. E già martedì prossimo, il 9 ottobre, il Tar del Lazio si pronuncerà nel merito sui ricorsi del Catania contro le deliberazioni del commissario Fabricini nel 13 agosto scorso. La battaglia legale per ottenere giustizia, come detto, andrà avanti anche se necessario davanti al Consiglio di Stato. Ricordiamo che al Tribunale di Roma è pendente anche una denuncia penale nei confronti del commissario straordinario della Federcalcio per abuso d'ufficio. Fare calcio fra tanta carta bollata risulta difficile, ma il Catania deve non solo giocare, ma anche vincere sul campo. Contro la Vibonese, Marotta tornerà al centro dell'attacco rossazzurro, per le altre scelte sottile, solo problemi di abbondanza. Ieri intanto, la D. Rossoazzurro, Pietro Lomonaco, è stato nominato consigliere della Federcalcio in quota Lega Pro, riconoscimento alla serietà e alla professionalità dimostrata nei tanti anni di carriera nel mondo del calcio.